Ciao da Apsim! Che Andrea Agnelli possa comprare la Juventus ve ne ho già parlato riprendendo un estratto, una parte significativa di un'intervista al giornalista scrittore Gigi Moncalvo che ne ha parlato nel dettaglio, poi però questa cosa è uscita dalla nicchia ed è entrata nel mainstream ieri con Panorama che ha lanciato questa indiscrezione clamorosa. In realtà non si parla tanto di fatti, di dati, sono ipotesi, però sono ipotesi che hanno qualche aggancio nella realtà e che hanno qualche concretezza e qualche fondamento. Proviamo a fare alcuni ragionamenti sulla base di tanti aspetti rilevanti di cui siamo a conoscenza che riguardano i rapporti Elkan-Agnelli, gli equilibri familiari, le cause, i processi in corso ed anche questioni un po' più a margine ma non troppo che riguardano invece le istituzioni dello sport e le istituzioni del calcio. Panorama dice che Andrea Agnelli potrebbe rientrare dopo la bufera, quindi una volta che si saranno calmate le acque, una volta che si saranno indebolite le accuse, anche se non so se succederà e quando, potrebbe rientrare acquistando la Juventus, andando a rastrellare le azioni che sono sparse in giro e che oggi valgono poco. Quindi Andrea Agnelli potrebbe innanzitutto, secondo Panorama, starebbe pensando, ma il fatto che circolino queste indiscrezioni in ambienti mainstream è significativo, starebbe pensando di andare ad accrescere il proprio pacchetto personale, ma andare a rastrellare le singole azioni non significa diventare azionista di maggioranza, non significa diventare proprietario. E' chiaro che è necessario un accordo con il proprietario attuale, che è Exor per il 63-64% e quindi John Elkan. Quindi il primo quesito è, se è vero che Andrea Agnelli vuole acquistare la Juventus, vuole diventare proprietario della Juventus, John Elkan è d'accordo, glielo lascerà fare, a quali condizioni? E qui entriamo già in tutti quelli che sono gli equilibri e direi di cominciare subito con il discorso della causa ereditaria. La causa ereditaria che vede contrapposti Margherita Agnelli, figlia di Gianni e i suoi tre figli di prime nozze, John Lapo e Ginevra Elkan. Questi tre Elkan sono comproprietari della società semplice Dicembre, che tra l'altro ha uno strettissimo legame con l'attuale nuovo presidente ad Interi della Juventus, Gianluca Ferrero, che sostanzialmente è uno dei burocrati di famiglia che curano gli interessi di alcune aziende della famiglia e del patrimonio enorme di miliardi di euro, compresa la Dicembre Società Semplice. La Dicembre ha la quota di maggioranza relativa, cioè è la società che detiene maggior numero di azioni, nella Gianni Agnelli BV, la ex accomandita di famiglia, società di diritto olandese, che è la cassaforte di famiglie che a sua volta è azionista di maggioranza di Exor. Exor è azionista di maggioranza di Juventus, ma per quanto riguarda il patrimonio familiare, si parte dalla Dicembre, che è affiancata ad altre società degli altri rami, come per esempio la AEA, che è la società di Andrea e Anna Agnelli, i figli appunto di Umberto, e quindi si parte da lì per andare poi tramite quote a sostanzialmente ad essere proprietari di tutto quanto l'impero. Nella Dicembre l'azionista di maggioranza è John con il 60% e quindi nella causa ereditaria con la madre il problema qual è? Che se dovesse vincere Margherita, Margherita potrebbe entrare nella Dicembre, potrebbe avere diritto ad una parte rilevante delle quote della Dicembre, compresi anche i suoi figli di seconde nozze con Serge de Palen. Questo andrebbe a spostare tantissimo gli equilibri ed è una cosa che è subiudice e probabilmente serviranno anni perché si possa arrivare ad una definizione della querelle successoria ereditaria nella famiglia. Il punto è, come sapete, ne abbiamo già parlato, che Margherita reclama di essere stata imbrogliata perché alla morte dell'avvocato nel 2003 e poi nel 2004 e nei mesi successivi andò a firmare un accordo rinunciando all'eredità dell'avvocato per quello che sarebbe stata la sua quota e anche alla futura eredità della madre Marella, poi morta nel 2019, in cambio di oltre un miliardo di euro all'epoca. Ma negli anni Margherita si accorta, ritiene di avere prove, del fatto che la consistenza patrimoniale su cui si basò la negoziazione all'epoca era diversa, cioè che le siano state occultate, le siano state nascoste, alcune società, alcuni possedimenti, alcune parti significative del patrimonio e quindi dice andiamo ad aggredire quell'accordo lì, che tra l'altro contiene un patto successorio che in Italia è nullo, ma bisogna ancora vedere se sarà il diritto italiano o il diritto svizzero per competenza ad occuparsi di questa vicenda per questioni poi tecniche e quindi faccio invalidare l'accordo, a quel punto mi spetta una quota dell'eredità che non mi è stata data, sono tantissimi soldi ma soprattutto tantissimo potere e quindi posso rientrare nei giochi oltre che farlo i miei figli in futuro e quindi avere degli equilibri diversi a livello politico nelle intricate vicende e negli equilibri precari della famiglia. Ripeto, serviranno anni ma potrebbe già esserci un primo passaggio, la competenza, che potrebbe già in prospettiva dare forte ragione o forte torto a Margherita. Se dovesse per esempio essere il diritto italiano a decidere di questa causa sarebbe già una vittoria instradata per Margherita, cioè Margherita, Agnelli, avrebbe non la certezza di vincere ma alte probabilità, diciamo che acquisirebbe già un forte vantaggio. E quindi possiamo immaginare che già questo forte vantaggio o svantaggio sia negoziabile nel breve periodo. Che significa negoziabile nel breve periodo? Significa che possiamo immaginare che alla luce di quelle che saranno le prime battute di questa causa ereditaria nei prossimi mesi, John da una parte e Margherita dall'altra potranno sedersi a tavola e trovare un accordo o stanno già approntando delle mosse, preparando delle mosse per appunto prepararsi a fronteggiare il colpo che dovessero subire, quindi a combattere a fronte della causa ma nell'ambito soprattutto delle società di famiglia, quindi per quanto riguarda le quote. E allora che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che di fronte ad un'ipotesi concreta di un ingresso di Margherita nella dicembre, John prima di trovarsi in minoranza, perché potrebbe trovarsi fortemente ridimensionato nel proprio potere decisionale, nella propria importanza in tutta quanta la matriosca di società, potrebbe fare una mossa in favore di Andrea che in qualche modo anticiperebbe una sconfitta, cioè la resa prima della sconfitta oppure quella mossa strategica prima di perdere per evitare di perdere. Perché in favore di Andrea? Perché Margherita nel caso rientrasse nei giochi sarebbe dalla parte di Andrea Agnelli, cioè Andrea Agnelli acquisirebbe come se tramite Margherita potessi acquisire quote non sue ma indirettamente perché avrebbe un appoggio molto importante in Margherita, perché Margherita pur essendo figlia di Gianni è umbertiana all'interno della famiglia, così come lo è naturalmente Andrea figlio di Umberto. Quindi Andrea potrebbe trovarsi a causa di questa causa ereditaria in vantaggio su John e John potrebbe decidere di evitare di trovarsi in svantaggio, anticipare i tempi e anticipare le situazioni andando eventualmente a vendere la Juventus, prima di essere costretto a farlo a condizioni a lui non più vantaggiose. Questo è soprattutto la cosa che può succedere. Se Andrea acquisisce maggiore potere tramite di Margherita, John è fregato, ma John non vuole rimanere fregato e allora ha probabilmente già preparato una contromossa. Contromossa che però non significa necessariamente John vende la società ad Andrea, perché ce ne passa ed è molto complicato. Significa semplicemente che John in questo momento, e lo sta dimostrando, è il padrone di tutto. Infatti aveva già tutto preparato per l'uscita del cugino Andrea ed infatti dalla sera alla mattina ha piazzato Gianluca Ferrero che come dicevo è strettamente legato alle attività anche private e personali di John Elkan e Maurizio Scanavino che continua ad essere un fiduciario top di John Elkan ed infatti è ancora amministratore delegato di Gedi, che è una società molto importante perché a John piace molto il fatto di essere editore per il tramite di questa società, appunto molto importante. Quindi John sta comandando e vorrebbe ovviamente tenere le retini anche più avanti e probabilmente sta pensando comunque di gestire questa patata bollente che è diventata la Juventus. una società che è il fiore all'occhiello della famiglia, che nasce come giocattolo, come passatempo molto però sentito, con grandi sentimenti, ma che poi per il tramite della finanza diventa invece una zavorra diventa una società che costa più di quello che in realtà produce in termini di ricavi e quindi in una situazione come questa John potrebbe star pensando, e ne ho parlato già tante volte alla cessione della società a terzi che però sarebbe una decisione clamorosa all'interno della famiglia cioè John passerebbe per quello che da erede, designato da capo della dinastia designato a quello che svende un asset importantissimo e appunto una parte integrante anche del sentimento e del cuore della famiglia Agnelli la Juventus, quindi è una cosa molto delicata John la farebbe non certo a cuor leggero ponderando bene tutti gli elementi e quindi tra l'altro non c'è solo l'ipotesi di vendere tutta la Juventus ma come ho già detto tante volte, l'ipotesi di far entrare un socio esterno di maggioranza o un socio esterno di minoranza però, vista la situazione anche di valore attuale e di capitalizzazione della Juventus una cessione non è comunque da escludersi nell'arco dei prossimi mesi diciamo nel breve medio periodo nel breve medio periodo ma tutta questa situazione e questo decisionismo di John dipende dagli equilibri che sono a monte quindi ripeto, se Andrea dovesse accrescere il proprio potere all'interno della famiglia John potrebbe perdere non solo la possibilità di comandare all'interno di Juventus ma soprattutto all'interno di Exor perché poi è quello che conta di più ma potrebbe perdere anche il potere decisionale di vendere e quindi gli conviene eventualmente vendere prima ora veniamo allora all'ipotesi in cui John si trova di fronte a questo bivio e poiché rischia di perdere la causa ereditaria è chiaro che se John invece avesse la probabilità percepisse la probabilità di vincere la causa ereditaria potrebbe comunque decidere di vendere la società Juventus ad Andrea ma avrebbe tempi, modi ed opportunità a proprio vantaggio per farlo ad Andrea o a Terzi quindi avrebbe tutto il potere decisionale comunque nelle sue mani e potrebbe decidere di vendere lo stesso ma con calma e alle sue condizioni ma è chiaro che non è che Andrea si presenta un giorno compra le azioni, ripeto, può comprare quelle sparpagliate così ma poi c'è l'Inseltrain che ha il 10-11% e devi andare dall'Inseltrain e devi dire mi vendi le azioni e poi c'è soprattutto Exor che ha oltre il 60% quindi serve una negoziazione da questo punto di vista su che cosa si basa questa negoziazione nelle more delle decisioni dei tribunali tenendo conto anche dei rischi personali a livello penale per Andrea stesso in questa situazione bene, la negoziazione si potrebbe basare sulla presenza di Andrea Agnelli nel CDA di Exor e nel CDA di Stellantis Andrea potrebbe, tra virgolette, vendere la sua uscita da questi consigli di amministrazione se è vero che John Elkan vuole liberarsi del cugino e dire però in cambio tu mi fai un favore che posso comprare la Juventus queste sono le ipotesi, diciamo, sulla base di equilibri attuali sono gli scenari che vi sto raccontando che magari possono anche risultare affascinanti ma onestamente non so quanto siano concreti qualcosa di concreto all'orizzonte in tutto questo c'è quindi dobbiamo ragionare in quest'ottica comunque che gli equilibri sono questi ma dobbiamo considerare se Andrea Agnelli ha e avrebbe la forza di acquistare la Juventus dal punto di vista del patrimonio ecco, fatemi dire anche un'altra cosa che nella causa ereditaria c'è anche un'altra componente molto importante gli avvocati gli avvocati sono rispettivamente dei fiduciari delle parti soprattutto lato John Elkan abbiamo degli avvocati che sono avvocati d'affari da anni che sono legati a stretto giro a tutta la galassia Elkan quindi ci sono tanti equilibri negli equilibri all'interno di questa causa ereditaria che è molto più decisiva forse di quanto si possa immaginare ma dicevo Andrea Agnelli avrebbe la forza economica di acquistare la Juventus? bene, guardando al suo patrimonio personale la liquidità diciamo la consistenza patrimoniale ce l'avrebbe anche ma stiamo parlando di una società che è detenuta da un'altra società che ha un patrimonio di decine di miliardi decine di miliardi di euro e che vale la Juventus uno o due miliardi di questo si sta parlando in ambienti finanziari che nel momento in cui si dovesse decidere di vendere la Juventus il prezzo di mercato sarebbe circa due miliardi ma almeno un miliardo anche se ha attualmente una capitalizzazione in borsa di poco più di 600 milioni di euro quindi Andrea avrebbe pure quei soldi ma se tu spendi tutto il tuo patrimonio o quasi tutto il tuo patrimonio per acquistare una cosa dopo come la gestisci e quello è il punto quindi potenzialmente Andrea potrebbe anche acquistare le azioni che servono da Exor e dagli altri da chi le detiene da quelli che sono diciamo rastrellandole sul mercato ma poi avrebbe la potenza di fuoco per amministrare per gestire la Juventus e quindi c'è da chiedersi se dietro Andrea nell'ipotesi che voglia veramente acquistare la Juventus non ci sia qualcun altro cioè un suo appoggio un appoggio esterno che può essere un'altra società che può essere un intermediario perché come la compra Andrea la Juventus a titolo personale cioè è lui o è una società che poi andrebbe a detenere le quote e nel caso si parlerebbe di delisting cioè nel momento in cui Andrea compra la Juventus e poi la ritira dalla borsa definitivamente di questo bisogna su questo bisogna fare delle valutazioni tenendo conto che magari è proprio Margherita che con l'ingresso nella nelle società di famiglia ha delle cifre esorbitanti potrebbe rappresentare quell'appoggio che serve ad Andrea a livello proprio economico e di potenza di fuoco per gestire però piano con gli entusiasmi o con il disfattismo io sarei ovviamente dispiaciuto se la Juventus dovesse finire di nuovo nelle mani di Andrea Agnelli io sono per la cessione da parte della famiglia sono per la disagnellazione disagnellizzazione della Juventus sono per una Juventus che non sia più di proprietà degli Agnelli di nessuno degli Agnelli quindi anche Exor out Elkan out non solo Agnelli out ma c'è anche un motivo per questo al di là di Exor e di Elkan per quanto riguarda Andrea Agnelli che cosa ha fatto Andrea Agnelli nella sua vita per dimostrare di essere capace di essere il proprietario della Juventus al di là poi di eventuali ripercussioni che si potrebbero comunque avere nel caso di condanne in sede penale per lui perché non si sa mai potrebbe comunque essere un boomerang potrebbe comunque essere un problema avere non solo il presidente ma un proprietario eventualmente condannato per eventuali reati gravi il punto dicevo è che Andrea Agnelli ha sempre lavorato nelle aziende di famiglia non è come l'Apo che ha fondato una sua azienda la Italia Independent che va bene tutto ma sono più di dieci anni che comunque è operativa o che è entrato in Fiat e ha fatto il rebranding del marchio lanciando il merchandising rilanciando Fiat e facendo delle macchine che materialmente hanno venduto un sacco la 500 Retro che circola e invade e pervade le nostre strade ormai da anni poi la L e la X quelle nascono da un'attività specifica di Lapo nel bene e nel male lui qualcosa anche nelle aziende di famiglia nonché improprio l'ha fatto per non parlare di Alessandro Nasi che è uno che ha studiato in America ha lavorato in America se non sbaglio ha lavorato presso Goldman Sachs o comunque in altri ambienti finanziari ed è il primo estraneo alla famiglia fondatrice di Lego a sedere nel CDA di Lego non era mai stato ammesso nessuno nel CDA di Lego che non fosse parte della famiglia fondatrice e Lego pure è un'altra azienda direi solida e in generale Alessandro Nasi è uno che a livello imprenditoriale finanziario sia in Europa che in America è attendibile diciamo che ha il suo ha la sua importanza ha la sua attendibilità Andrea non è così non ha fatto questo prima di diventare presidente della Juventus aveva fatto ben poco ed infatti nella sua lettera ai dipendenti delirante come l'ho definita rivendica quella cosa imbarazzante di aver siglato un accordo con Volkswagen per la sponsorizzazione della Juventus pochi lo sanno una cosa imbarazzante per la famiglia che costrinse come dicevamo in un video precedente la famiglia o meglio Marchionne e quindi Elkan ad intervenire strappando quel contratto con i tedeschi e mettendo quindi Jeep sponsor di maglia della Juve come è ancora oggi investendo ancora altri soldi nella Juventus altri soldi delle aziende di famiglia nella Juventus forse non dovuti forse non voluti quindi uno che va a rivendicare una cosa imbarazzante come a dire io so fare le cose capite che non è così entusiasmante che possa diventare proprietario della Juventus poi come la gestisce al di là di Allegri che sarebbe il nuovo Ferguson e non ce lo toglieremmo più dalle scatole o magari Chiellini in dirigenza del Piero di nuovo ostracizzato queste poi sono altre cose ma a livello operativo sarebbe Andrea Agnelli in grado di guidare la Juventus voi mi direte ma l'ha già dimostrato perché ha fatto il presidente non sono d'accordo e l'ho già detto che secondo me tanti dei successi di Agnelli in realtà non sono attributibili specificamente a lui ma solo indirettamente e poi c'è l'esempio della Superlega cioè uno che ha lanciato la Superlega in quel modo facendosi sostanzialmente raggirare da Florentino Perez e andando a rompere tutti gli ottimi rapporti seppur pochi che c'erano a livello istituzionale italiano ed europeo non è così presentabile a fare il proprietario della Juventus un piccolo passaggio spero piccolo anche se molto complesso sulla situazione invece delle istituzioni del calcio perché brevemente in tutto questo cos'altro balla oltre alle eventuali sanzioni UEFA le eventuali sanzioni nazionali le eventuali sanzioni della FGC alla Juventus ecco sanzionare pesantemente la Juventus non conviene a nessuno l'ho detto e lo ripeto non conviene a nessuno che la Juventus prenda anche solo dei punti di penalizzazione non conviene al movimento sportivo italiano perché al movimento sportivo italiano serve la Juventus ma anche il Milan ma anche l'Inter forti e la prospettiva che Elkan possa vendere la Juve rifinanziandola portando soldi freschi è una prospettiva che eventualmente fa gola a tutto il movimento calcistico ora è chiaro che se la Juve dovesse essere retrocessa salta tutto salta tutta questa tutta questa forza fresca economica di cui beneficerebbe tutto il calcio e quindi non dico che andranno a disapplicare le norme o a fare degli imbrogli dico che nel momento in cui c'è una discrezionalità e c'è una discrezionalità nell'applicare le sanzioni si deciderà probabilmente di andarci piano più che di andarci pesante cioè tra andarci pesante punti di penalizzazione e retrocessione e il revocatitoli ci si andrà a leggeri o a metà e quindi magari pure qualche punto di penalizzazione ma nulla di straordinario e per lo più multe quindi sanzioni pecuniarie e questo anche perché perché a livello istituzionale del calcio è una situazione ancora più caotica della Juventus se vogliamo perché c'è il caso Donofrio c'è Trentalange che non si vuole dimettere c'è Gravina che non si vuole dimettere ma che fondamentalmente rischia di saltare a breve c'è Casini che nel mezzo come presidente della Lega Serie A ha una posizione non così in aderenza a Gravina e alla FIGC e sul tavolo ci sono tante questioni tantissime questioni i diritti tv gli sgravi fiscali la rateizzazione infatti degli arretrati nei confronti del governo e appunto tutta questa vicenda sia della Juventus che del caso Donofrio perché Gravina è veramente in mezzo ad un fuoco incrociato ma non diciamo poverino perché diciamo sono le sue responsabilità e gode di ben poco favore anche all'interno delle gerarchie istituzionali da parte per esempio dei dilettanti della Lega Nazionale dilettanti perché deve contrattare con il governo una situazione che possa portare il calcio italiano al sicuro rispetto a tante problematiche ma deve contrattare anche al suo interno su tante cose per esempio il commissariamento dell'AIA che però secondo Trentalange non è necessario perché è stato sufficiente far sì che la giustizia AIA passasse sotto la giustizia FIGC e questa è una cosa che è già stata decisa e di conseguenza Trentalange ritiene di non doversi neanche dimettere nonostante lo scandalo Donofrio ma pure Gravina ritiene di non doversi dimettere nonostante lo scandalo nonostante le responsabilità che gli arrivano addosso dall'interno poi se vogliamo possiamo parlare anche della mancata qualificazione mondiale come ulteriore motivo di dimissioni di Gravina e quindi è tutto molto in bilico ed è tutto negoziabile soprattutto con il governo per cui si potrebbe venire a creare una situazione nella quale il governo con Abodi che si sta mostrando molto molto ammorbidito ultimamente nei confronti delle istanze del calcio si potrebbe venire ad una negoziazione con cui il governo riconosce dei benefici al calcio quali possono essere gli sconti fiscali o altre o altre situazioni anche dei veri e propri pagamenti al calcio per il sostentamento del movimento e dall'altra parte però si viene a fare giustizia in un certo modo cioè il governo del calcio garantisce al governo politico nazionale che farà pulizia come abbiamo sentito dire si deve fare pulizia quindi è veramente ripeto tutto sul tavolo ci sono tantissime cose sul tavolo tantissimi equilibri tutto è negoziabile in questo momento da parte delle istituzioni del calcio e da parte di Agnelli ed Elkan come Juventus come famiglia come società di famiglia alla luce anche delle situazioni processuali che sono in corso era difficile essere chiari spero di essere lo Stato tante situazioni ancora tutte da sciogliere veramente molto intricate fatto sta che ad oggi la prospettiva di Andrea Agnelli che compri la Juventus non è così immediata però il fatto che se ne parli non solo nelle nicchie ma anche sul mainstream è molto significativo significa che qualche cosa di vero c'è vedremo quanto e vedremo quanto di quello che eventualmente è vero sarà comunque attuabile e concretizzabile però è molto molto sarà deciso nelle aule dei tribunali civili penali e anche sportivi sarà tutto da vedere e comunque sarà una nuova Juventus forse già da giugno e quello speriamo di godercela nel miglior modo possibile chiunque sia il presidente chiunque sia il proprietario perché poi è quello che ci interessa come tifosi che la Juve sia forte grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti ripeto temi complessi spero di non avervi rimbambito con troppe ipotesi ma ci ho ragionato tanto e quindi ho cercato di diciamo alleggerire anche tutta la narrazione e gli scenari poi naturalmente possiamo andare ad approfondire alla luce di quello che eventualmente succederà e quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video se ancora non lo avete fatto mettete like a questo se vi è piaciuto condividetelo con chi è interessato all'argomento e abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi la programmazione quotidiana live in esclusiva con gli abbonati video in anteprima e tanto altro ci vediamo molto presto e sempre forza Juve